Che ne pensate se una delle ragazze più carine, simpatiche e conosciute della città decidesse di mettersi in gioco? E pensate se le sue migliori amiche decidessero di trovarle un fidanzato, sottoponendo i pretendenti a delle divertenti prove? Venite a scoprire tutte le news ogni venerdì in diretta alle ore 15 sulla piattaforma di Boracom TV. Tutto questo e molto di più è Chi fermerà la ragazza con la valigia?